Buongiorno, eccoci, sono Maurizio Ciatti, sono qui per parlarvi di un argomento secondo me estremamente importante, il Covid e il sorriso delle persone. Io sono un vecchio odontoiata di Varese che si è accorto di questa problematica veramente gigantesca che sta attraversando la nostra vita. Un'emergenza sanitaria che da due mesi ci obbliga a nascondere parte del viso. Lo storico dentista Maurizio Ciatti traduce le conseguenze della mascherina in termini medici, sociali, estetici, empatici e culturali e si dice preoccupato. Tanta gente, spiega, ha smesso di prendersi cura della propria bocca, un paradosso visto che oggi bisognerebbe curarla ancora più di prima. La mascherina limita il ricambio d'aria e questo alla lunga può avere degli effetti collaterali sul cavo orale, per non parlare del significato esistenziale di ogni sorriso, riflesso di un'anima che non può limitarsi al solo sguardo. Il concetto è quello di non trascurare l'aspetto psicologico del sorriso, perché il sorriso fa parte del rapporto che noi abbiamo con le altre persone. In questo momento noi abbiamo dato tantissima importanza agli sguardi che mantengono la capacità di riconoscere una persona. Avendo tolto il sorriso togliamo però un aspetto di contatto con gli altri straordinario.